Sarà un anno complesso quello che attende la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino che dopo i tagli dovrà subire una riorganizzazione drastica. Nelle Marche ci dovrà essere un'azienda unica speciale delle 5 attuali e solo due Camere di Commercio, Marche Nord e Marche Sud. Pesaro quindi è pronta a fondersi con Ancone in un processo che dovrà avvenire entro la fine dell'anno. Il procedimento poi comprende la creazione di un consiglio di 30 componenti che dovrà eleggere il presidente. A rivendicarne sia la sede che i vertici sono Alberto Drudi e suo vice Amerigo Varotti che elencano i progetti per il nuovo anno e i risultati già ottenuti come quello dell'export. Siamo la provincia che cresce di più. Dicono che la provincia di Pesaro e Urbino ha avuto un aumento dell'export di oltre il 10% mentre le altre province marchigiane sono in calo e anche un dato molto più alto del dato nazionale. Una crescita ha proseguito che anche il frutto del lavoro dei nostri imprenditori e delle opportunità che la Camera di Commercio e Aspina hanno costruito nel tempo. Si parla di 60 collaborazioni con enti camerali e paesi del mondo. Per il rilancio invece un ruolo importante lo possono svolgere gli aeroporti ma ad oggi ne manca uno di riferimento. Su quello di Fano dove potrebbero nascere decine di attività e posti di lavoro ribadiscono la loro linea. Purtroppo è una vicenda triste e lunghissima. C'è un contenzioso di fatto. La famosa richiesta di una via, di una valutazione di impatto ambientale per l'asfaltatura della pista che l'Enac richiede. La Regione dice che non è necessaria però nessuno si muove da questo impasse. E' ovvio che se dovesse perdurare questa situazione e non si facessero passi in avanti nella definizione di una pista decorosa per lo sviluppo dell'aeroporto di Fano la Camera di Commercio ha già detto che uscirà dalla società. Sul turismo invece Varotti è critico nei confronti della Regione. Il Governo ha tagliato le risorse ma per il Vice Presidente quelle stanziate per il piano annuale sono insufficienti. Poco più di 900 mila euro dai fondi di bilancio per il turismo sono una sciocchezza per un settore che invece tutti ritengono che sia trainante per l'economia del nostro Paese. Per questo motivo Varotti propone un incontro con l'assessore regionale Pieroni, i sindaci di Fano, Pesaro, Gabicce Mare e Urbino. Come si dice, fare sistema, fare squadra per ottimizzare le risorse consapevoli che bisogna fare molte iniziative promozionali. Chi dice che non è più necessaria la promozione dice delle sciocchezze.